Se avete bisogno di crediti, IGVOLT, link e codice coupon qui in descrizione. Volete effettuare scommesse sportive? Melbet.org, link e codice promozionale qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di noi malati di foot, qui è Jovispo che vi parla. Benvenuti nella player video di Ang Min Son, nella sua versione Headliner 90 di rating. Prima di iniziare questa review vorrei ringraziare e salutare Johnny per avermi prestato l'account con lui dentro. E se vi va mettete mi piace a questo video, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, link ai nostri social e quant'altro qui in descrizione. E sempre in descrizione troverete il link di Telegram, il nostro gruppo Telegram è della nostra pagina Facebook ovviamente e del nostro Instagram ragazzi. Ovviamente è tutto qui in descrizione. E devo dire che Ang Min Son in questa versione Headliner non ha nulla da invidiare a qualsiasi altro attaccante top della Premier League. Come tutti ben sapete esiste una sua versione Headlines dal prezzo secondo me elevatissimo, 2 milioni e 300 mila crediti. Invece questa carta costa di circa 350-370 mila crediti e capisco il prezzo eccessivo. È veramente un buonissimo attaccante nonostante sia diciamo superato tra virgolette. Velocità al top ragazzi, veramente al top. Il tiro eccezionale ha una reattività, una rapacità incredibile e riesce a finalizzare alla grande sia di destro sia di sinistro grazie anche alle 5 stelle epide debole. La potenza tiro e i long shot abbinati lo rendono un ottimo tiratore dalla distanza. La posizione in campo è buona nonostante i work rates alto in attacco, alto in difesa. Il tiro al volo sinceramente non è niente male, i rigori sono un po' più soggettivi. Il passaggio è secondo me al top potrebbe fare tranquillamente il COC. Anche se sinceramente il passaggio lungo non è proprio precisissimo. Invece i cross va bene, sono utili ma un attaccante non andrà quasi mai praticamente al cross. La visione è ottima sempre per quel che riguarda il ruolo di COC. In attacco serve il passaggio ma non tantissimo a parer mio. Si può essere comunque utile. Il dribbling è davvero eccezionale ragazzi. L'agilità è secondo me a livelli altissimi. Invece l'equilibrio è un piccolo contro. Poi se lo abbiniamo anche alla forza che in questo caso è a parer mio un contro netto che si sente. Nei contrasti devo dire perde tante palle. Però tutto sommato non cadrà sempre e il dribbling risulterà non molto efficace a volte appunto perché perde ogni tanto l'equilibrio. La freddezza invece non è niente male anche se si poteva avere qualcosina in più. Il dribbling puro devo dire davvero ottimo. In più abbiamo 4 stelle skill che sono assolutamente da sottolineare perché riesce a skillare davvero benissimo. Grazie anche ad un ottimo controllo palla sia nello stretto e sia anche quando se l'allunga. Avete presente la situazione in cui prendete un attaccante, un giocatore e correte e vi allungate la palla? Lui tenderà a non allungarsela troppo. Ed è una cosa che io cerco particolarmente nei giocatori molto veloci. Magari un giocatore a 99 di velocità però poi gli chiamate un allungo della palla diciamo così va? E questo giocatore tenderà ad allungarsela talmente tanto che potrebbe perderla con estrema facilità e potrebbe facilitare il compito del portiere nell'eseguire un'uscita 1 vs 1. Il colpo di testa sinceramente non è al top ma non è nemmeno scarsissimo se la può cavare in determinate circostanze. La resistenza è a parer mio, un pro ragazzi è un giocatore che corre tanto ed è una cosa positiva. Il tiro a giro sinceramente non è male, anche il pallonetto grazie anche all'effetto 93 in carta. L'aggressività ragazzi lasciamo la star perché difficilmente recupererà dei palloni. Come alternativa tra le icon Cruif 91, Correa Tots tra i Tots ovviamente, Rushford 88, Salah 88, Hazard 93 ed Aubameyang nella Lega. Come stile intesa io l'ho provato con il base ma vi consiglio un cannoniere o un falco. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, un 3.5. La Corea non l'aiuta affatto ma magari il doppio legame o una linea verde con Kane ed Eriksen può essere utile per delle ibride. Magari mettete Son, Kane e Eriksen e state a posto. E' un giocatore da Weekend League, non l'ho provato in VL ma devo dire che in divisione 1 se la cava davvero molto molto bene. Mi ha stupito questa cosa sinceramente. E venendo alle conclusioni il mio voto per questa carta è un 9 pieno. Ragazzi sinceramente Son in questa versione non ha nulla da invidiare a qualche altro attaccante Tots che ho provato. E devo dire che il prezzo è giustificato. E dopo aver provato questa versione mi viene una grande voglia di provare la sua versione Tots ma non penso di provarla. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale, qui ci vi spò, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.